buongiorno a tutti cari amici e bentornati sul canale oggi faccio l'unboxing di questo kit per sensori di parcheggio che ho acquistato in rete ce ne sono tantissimi di video per unboxing di sensori di parcheggio io vi farò anche il montaggio ce ne sono tanti anche di quelli ma ovviamente sarà il mio video quindi guardatelo mi raccomando allora parking sensor system è tutto molto intuitivo questa qui è la fresetta da 22 mm per forare i paraurti si ferraccio zincato diciamo di buona fattura diciamo però ovviamente loro lo danno per forare i paraurti in plastica quindi non sarà né temprato né altro non penso che lo potremmo utilizzare per altri fori su materiali diversi dalla plastica comunque continuiamo con l'unboxing qui abbiamo la marca del prodotto che alla fine come ho potuto vedere in rete ci sono diversi prodotti molto simili gli uni agli altri qua c'è una targhetta per quanto riguarda dovrebbe essere mese questo qui dovrebbe essere mese aprile 2020 scusate aprile 2020 qua c'era un'altra etichetta ma chissà come mai è stata rimossa secondo me era un'etichetta vecchia tipo antecedente al 2020 i signorini i geni l'hanno rimossa e hanno applicato questa nuova per il 2020 vabbè pazienza i pin sono piccolissimi delicatissimi si mi sembrano quelli dei jack dei elicotterini radiocomandati che si trovano in qui abbiamo due viti a croce quindi nel caso in cui vogliamo aprirlo per analizzare se si è bruciato qualcosa possiamo aprirlo anche se varrà più la pena comprare un altro smontare comprare un altro che è riparare questo andiamo a vedere i cablaggi questo è il cicalino col suo jack a 4 pin ce ne abbiamo uno solo che è questo poi abbiamo i sensori nel nostro kit ce ne sono 4 eccoli qua 1 2 3 4 2 pin vediamo se guardate sono separati dagli altri due suppongo che qui vado nei sensori resta l'alimentazione che va su quest'altro a 3 pin 3 pin ma abbiamo soltanto due cavetti da collegare ora non so perché abbiano fatto sta scelta però comunque ci sono due cavetti positivo e negativo da collegare il negativo di solito va a massa il positivo va preso dalla luce della retromarcia in modo che quando andiamo a innestare la retromarcia il positivo viene viene data potenza al positivo che dà potenza alla centralina e a tutto quanto l'impianto di sensori di parcheggio sono fatti molto bene sono hanno un orientamento ora io spero che si riesca a vedere che hanno sono vedete che hanno un labbro cioè allora in modo che possono essere orientati un po in tutti i modi perché in questo caso abbiamo il sensore che è perpendicolare a questo lato vedete però il labbro esterno vedete è inclinato questo penso che sia stato fatto perché quando abbiamo il paraurti che scende verso il basso cioè noi abbiamo la linea del paraurti che curva verso il basso noi possiamo mettere questo sensore in questa posizione qui vedete allora mettiamolo correttamente in questa posizione qui vedete che questa linea segue la linea inclinata del paraurti ma il sensore è dritto verso dietro quindi non è che dobbiamo metterlo per forza sulla parte del paraurti perpendicolare al terreno ma possiamo metterlo anche nella parte un po più obliqua con un po di curva del paraurti perché questo sensore va a compensare quella curva qui abbiamo comunque i quattro sensori nel kit abbiamo tutto qui abbiamo le istruzioni ma come vi ho già narrato è molto semplice molto intuitivo da installare perché i jack alla fine sono tutti quanti diciamo vincolati ai loro fori questo qui è un po rovinato vediamo se riusciamo a togliere questo pezzettino di plastica ok guardate questo va qui i vari sensori hanno il loro jack l'alimentazione ha il suo eccoci qua non abbiamo potenziometri regolazioni da fare non abbiamo nulla questo cavo di alimentazione è molto corto deduco che questo vada alloggiato nella parte più vicina alla luce della retromarcia spero che sulla vostra auto ci sia la possibilità di metterlo lì vicino il cicalino ha un cavo molto lungo vediamo quanto può essere lungo secondo me è oltre i 3 metri e i sensori giustamente non avevano bisogno di 3 metri di lunghezza perché vanno messi comunque nelle vicinanze qui abbiamo un biadesivo per poter incollare il nostro cicalino da qualche parte in giro per l'auto qui abbiamo ancora altro biadesivo per poter incollare la nostra centralina qualora non vogliate fare i fori le istruzioni come vi dico chiarissime vediamo se c'è qualcosa che parla dell'inclinazione dei sensori allora abbiamo qui nella parte posteriore c'è una distanza 0,3-0,4 metri quindi 30-40 centimetri l'altezza da terra consigliata è 0,5-0,8 quindi 50-80 centimetri vediamo le specifiche tecniche quindi 12 volt 12 volt quindi non va bene per forestata 24 volt o per camion altrimenti bruciate tutto voltaggio operativo tra i 10,5 e 16 volt ma ovviamente non li raggiungiamo perché la nostra auto arriva a 12 che abbiamo più che ci può interessare ultrasoni 40 kHz temperature di esercizio tra meno 30 e 80 gradi centigradi quindi il control box ossia la nostra centralina anche se non di fattura eccelsa dicono che può lavorare da meno 30 gradi centigradi a più 80 gradi centigradi vediamo un po' 8 canali front 4 sensori qua parla di 8 canali però io ne vedo soltanto 4 quindi evidentemente come al solito sarà un libretto di istruzioni per varie tipologie di kit di sensori infatti qui eccoli qui qui abbiamo quello a 8 canali con la videocamera questo invece è quello a 4 canali e questo qui è il nostro base solo con 4 sensori c'è 4 sensori 6-8 sensori con il display qui invece è quello con il display e la telecamera beh allora questo kit qualora me lo chiediate questo kit con 4 porte va bene solo per i sensori quindi se avete bisogno di collegare come in questo caso il display oppure volete collegare il display il monitor purtroppo dovete acquistare un altro tipo di kit questo kit è fatto solo per i 4 sensori e il cicalino non ha né il monitor né il display bene amici ora vi saluto e preparo il tutto per poter installare il kit sulla vettura lo andrò a installare sulla Dacia Duster quindi se siete interessati se siete possessori di Dacia Duster prima serie restyling restate collegati sul canale perché a breve arriverà il kit dell'installazione su dove fare i fori quali misurazioni prendere e anche come funzionano effettivamente quando troviamo un ostacolo che sia un paletto o un panettone di quelli classici del supermercato perché alla fine il muro in retromarcia lo vediamo tutti la macchina il furgone in retromarcia lo riusciamo a vedere il grosso problema nelle retromarce con questi SUV o queste auto station wagon sono gli ostacoli bassi quelli che non riusciamo a vedere dal specchietto retrovisore o dai specchietti laterali quindi paletti panettoni roll bar tutto quello che troviamo per strada che sia al di sotto della linea del cofano ragazzi vi aggiornerò a breve con il montaggio del kit key moon e a presto ciao a tutti a presto a presto